Con il sindaco di Chieti Diego Ferrara parliamo della situazione dell'acqua. Che estate sarà? C'è preoccupazione in città? La preoccupazione nella nostra città c'è sempre per le problematiche che oramai tutti i cittadini sanno riguardo lo stato di ammaloramento delle nostre condutture. A tutto questo si aggiungono delle stagioni sempre più secche, siccitose, però quest'anno avremo sicuramente un tentativo di miglioramento. Giorni fa sono stato vicino allo stadio in Viale Abruzzo dove si stanno facendo dei carotaggi che termineranno nei primi giorni della prossima settimana dei carotaggi a cura della sovrintendenza alle belle arti lungo la Tiburtina dove inizieranno a brevissimo i lavori per la costruzione di questo anello di conduttura idrica dello scalo di 20 chilometri che andrà dalla rotonda di Megalò fino a Madonna delle Piane. Qual è l'utilità? L'utilità di questo anello è quello di svincolare la portata idrica di Chieti Scalo da quella di Chieti Alta e quindi di aumentare sensibilmente la pressione piezometrica dell'acqua a livelli ottimali per cui pur essendoci una carenza idrica per i motivi prima detti, quindi siccità, perdite lungo le condutture, sicuramente la pressione per gli abitanti di Chieti Scalo, per i palazzi di Chieti Scalo sarà migliore e quindi rispondendo specificatamente alla sua domanda io sono fiducioso che la situazione di quest'anno sarà migliore dell'anno scorso.